Pasta, tonno e pomodorini. Delizioso primo piatto, super veloce e perfetto anche mangiato freddo. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Versate dell'olio in una padella, aggiungete lo spicchio d'aglio tagliato a metà e infilzate in uno stecchino. In questo modo farete prima di individuare l'aglio e poi toglierlo. Versate i pomodorini e fateli cuocere. Aggiungete dell'acqua di cottura della pasta in modo da far ammorbidire bene i pomodorini. Eliminate l'olio dal tonno e poi unite il tonno ai pomodorini. Eliminate lo stecchino con l'aglio. Se vedete che il sugo è troppo denso, aggiungete qualche cucchiaio d'acqua di cottura della pasta. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e aggiungetela al sugo di pomodorini e tonno. Mescolate bene in modo da mantecare, spolverate con il prezzemolo tritato, servitela ben calda o a temperatura ambiente durante il periodo estivo. Avete visto quanto è facile e ora non vi resta che provarla.